Sarà un settembre di poco caldo sul versante fiscale e una serie di scadenze originari o prorogate che renderanno le prossime settimane di fuoco. Ma vediamo alcuni appuntamenti col fisco. Si parte con il modello 770, cioè la dichiarazione dei sostituti d'imposta per il 2012 con scadenza 20 settembre 2013 ad opera dei datori di lavoro. La proroga decisa a luglio dall'Agenzia delle Entrate sposta il termine ultimo a settembre. Questo nuovo termine per la trasmissione telematica contempla anche la possibilità di ravvedimenti, ad esempio per ritenute fiscali non versate alle scadenze. Dieci giorni dopo, il 30 settembre, scade il termine per la trasmissione del modello unico 2013 sulla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Una scadenza che riguarda sia i redditi di persone fisiche, titolari o meno di partita IVA, che di tutte le società. Sempre il 30 settembre, l'ultimo giorno per l'invio telematico delle dichiarazioni IVA relative al periodo d'imposta 2012 per società e ditte individuali. Sempre entro quella fatidica data c'è la necessità dell'invio della dichiarazione d'imposta regionale sulle attività produttive dell'anno precedente. Con il provvedimento, poi d'inizio agosto, si interviene anche sullo spesometro, con la comunicazione entro novembre da parte di società commerciali e ditte degli elenchi di clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate. E in questo sistema fiscale, considerata dalla Banca Mondiale il peggiore d'Europa, con un carico fiscale più elevato di tutto il vecchio continente, arrivano anche paradossali episodi di cronaca. In Trentino il servizio antifrode dell'ufficio delle Dogani ha scoperto una presunta evasione fiscale di due società per oltre 20 milioni di euro. In Sardegna, invece, una gelateria di Olbia sarà costretta a chiudere per tre giorni in questo mese di agosto per un'evasione fiscale di 1,50 euro.